bene bene chiudiamo il primo detachment e passiamo al secondo direi yes passiamo finalmente a un bel detachment per un bellissimo esercito eccoci qua infatti qua siamo tutti d'accordo potrebbe dar molto di più ma pesca sempre a pagliuzza corta la line blade task force è il detachment in cui d'archange e soldier usano le prime due ali in combo quindi moto e terminator non solo moto non solo moto perché ricordiamoci che la keyword ravenwing la prendono anche gli speeder mentre il credetwing ha anche repulsor land raider e tutti i dreadnought c'è tanta roba che a ste keyword adesso perché non ne parliamo tanto spesso? perché nel detachment ovviamente il codex base queste keyword servono a specialmente a deathwing ha proprio niente perché il detachment inner circle specifica fanteria su tutto tranne che è il fight on death mentre quello ravenwing è comunque mediocre quindi non ce ne frega niente bene cosa fa questo attachment come regola? ogni volta che unità nemica esclusa mostri veicoli e nel range di engagement della ravenwing se vuole fare fallback deve fare un desperate quindi tiare al 1-2 perde un modello se oltre a essere nel engagement e anche patto e shock lo fa almeno un aggiuntivo quindi al 1-2-3 mentre la keyword deathwing permette di avere un più due le cariche se il bersaglio della carica è in engagement range di unità ravenwing tante parole per dire che è interessante è interessante perché apre finalmente tante combo come il singolo scemo Balial in Deep Strike che carica un'unità al più due e inizia a fare un po' di danni finalmente e non resta di fermo come Typhus a farsi sparare allora la prima cosa che vi viene in mente qual è questo attachment? combine arms buttare in avanti gli speeder al limite forse qualche motor non sono sicuro coi punti per permetterti a uno o due blocchi di terminator o i compagnoni adesso si come si chiama non mi ricordo i companions i companions di venire in corpo a corpo e macellare perché avere più due le cariche che vuol dire farlo anche da una riserva strategica da un Deep Strike e tanta roba chiaro chiaramente combined arms è la prima cosa che viene in mente a tutti noi i dark angels dovrebbero essere tra tutti i capitoli marine quello delle combined arms hanno tutte le loro ali delle quali ognuno fa una cosa diversa in 40k ce ne sono solo due però queste due dovrebbero essere utilizzate appunto in questa maniera qua e il detachment purtroppo ti ho utilizzato per combined arms normalmente i gladius e penso che ne riparleremo più avanti ma mi sa che continuerà a esserlo anche dopo dopo che è uscito questo detachment qua però è un'alternativa così bella e così tematica comunque è carino perché ti permette appunto di giocare ti permette di un pochino costringe a giocare Deathwing e Ravenwing combinate quindi magari i modelli che normalmente giocheresti un pochino di meno e questo è quello che mi piace di più vedere normalmente nei detachment vedere una cosa che incentivi l'utilizzo di qualcosa di meno utilizzabile normalmente la varietà Gladius è un pochino più Gladius diciamo normalmente è un pochino più noioso perché puoi giocare le tue unità forti saranno ancora più forti perché hai tutti i bonus che dovresti avere per l'unità e quindi non c'è molto a dire quello là prendi i profili migliori che hai e schiaffari dentro il tuo esercito e quindi non è altrettanto emozionante allora guardando facciate fare una lista per questo detachment una cosa molto interessante che ho pensato è le unità economiche tra Outrider con Samael perché Samael avanza e carica l'unità e gli Outrider auto avanzano i 6 e diventa un'unità che si nasconde bene facile ti fa un bel giro veloce e ti carica molto facilmente per ovviamente supportare poi un'unità di Terminator o un personaggio o anche companion una carica lunga Outriders muovono di 12 si vuol dire avere 18 più 2 di 6 di carica non è non è male come combo ci sono cose carine infatti direi che possiamo parlare di enhancement prima di tutto abbiamo gli elementi di di Caliban ovvero il pianeta d'origine Archangels o ciò che ne rimane che aumenta di 1 i danni dell'arma da mischia del portatore molto semplice 15 punti ed è street forward quello che dice aumentare i danni fine interessante su un Judicar per andare a cercare di far fuori i personaggi sicuramente vero si prossimo direi che è il signore della caccia solo un modello Ravenwing l'unità del portatore può fare fallback shoot and charge e può rerollare i testi desperate escape un effetto molto solido da avere automatico su un'unità dopo unità Ravenwing che possono prendere questo come si chiama potenziale ne abbiamo due la comando in moto il cappellano in moto basta ok che non è malissimo il cappellano in moto può regarsi o ai ai black knights o ai outriders quindi puoi fare la mob di nove moto più cappellano con questa roba va sempre visto se questo investimento valga la pena perché normalmente è uno dei problemi dei cose come outriders o anche black knights per quanto io vorrei poter giocare in black knights perché anche se facessero un modello nuovo per carità però per quanto siano interessanti e potenzialmente belli non penso che valgano un investimento normalmente e l'idea di dover raggiungere anche un personaggio perché a parte Sam non penso che altri personaggi siano particolarmente gustosi solo per rendere ancora più giocabili mi sembra un po' troppo mi sembra che tu stai investendo tanti punti in una cosa che non fa non fa tanto all'inizio edizione ho provato a giocare molto i black knights in più salse e non si sono mai ripagati perché o il turno in cui caricano caricano un mezzo e fanno un po' di male ma non tantissimo con le loro armi anti-carro oppure da lì in poi sono delle moto che sparano dei plasma e basta quindi ha senso fare il pullback sì per poi spartire il plasma però è un investimento tanto grande mettendo insieme le moto le enhancement il personaggio o comunque la comando infatti le liste che sto provando a fare con questo attachment non hanno le moto di archangel hanno giusto un paio di traders per le keyword un paio di atv per avere una unità economica che vada a tappare i buchi e basta magari se vuoi delle unità mounted per i vari bonus che le puoi dare di combined arms comunque rimangono le speeder hanno un loro effetto ma hanno un utilizzo completamente diverso ma hanno il loro effetto però mi sembra veramente che le unità migliori su cui potresti mettere questo enhancement non valga la pena di investirci sopra questa edizione è proprio nostra sicuramente poi magari vedremo magari abbassano i punti Black Knights ancora di più costano come delle motori non è che costino tanto adesso è proprio questo il problema che non è che costino tanto però nonostante questo poveri va bene detto questo abbiamo Stoward Champion per 25 punti da dare a un capitano cappellano ottenente che gli dà praticamente uno standard perciò gli dà più uno di oggetti control alla solita finché non è batto scioccata questa è un po' una differenza perché al contrario di altri standardi non ti permetti avere un uc non nulla anche se sei batto scioccato quali sono gli utilizzi chiaramente i Deathwing Knights a non c1 non sono male perché c1 sui Deathwing Knights ogni tanto può rendere un pochino meno utile di quello che dovrebbero essere meno forti a tenere un obiettivo più che altro diciamo questo è costoso come enhancement soprattutto per i Deathwing Knights che già per sé costano bellino però onestamente non vedo quando troverbbe spazio nella lista decisamente no viceversa il prossimo è quello che sicuramente troverà spazio in ogni lista con questo attachment pulgus magna permette di tornare nelle riserve una volta partita e basta che vuol dire avere i Terminator che entrano sul campo tornano in riserva e rientrano il turno dopo oppure due turni dopo perché non è richiesto il turno dopo che rientri oppure riserve strategiche anche al bordo ma avendo il diphtray che non ti serve comunque è un ottimo enhancement per avere un'unità che magari tu hai schierato perché era un po' di o poi hai fatto un trend in diphtray che scontorno perché era un po' di pressione dell'avversario ma lui si è spostato o l'ha ignorata e dopo ritorni in riserva e crea ulteriore pressione anche perché per il timing tu ritorni nel turno avversario in riserva e non è male come timing perché puoi scendere subito dopo se sì esatto chiaro e di nuovo parlando da dove parlavamo prima di modelli lenti e anche sicuramente i terminator nonostante i più duelle cariche anzi i più duelle cariche li rende ancora più appetitose di tornare in riserva perché si può rifare il trick dalla riserva di caricare un'unità grazie al supporto della Ravenwing e rendere la carica molto più probabile del normale quindi riposizionarli e avere una carica abbastanza facile soprattutto se se si hanno i cp per il binaggio non è niente male come ma il cp per il binaggio è deathwing model sai che c'è un modello di personaggio che non è personaggio con nome che è la keyword deathwing pure request enhancement e soprattutto ti permette di binare le cariche il capiano terminator certo e quindi inizia ad avere una combo molto interessante capiano terminator cariche facili dalla riserva una volta della partita certo una tua unità per partita però comunque comunque il terzo turno probabilmente c'è quel momento a meno che tu non giochi contro Grey Knights o quant'altro c'è quel momento in cui tu hai appoggiato la tua riserva e l'avversario si può rilassare se hai una cosa del genere anche non poppandolo subito ma tenendolo come possibilità sul campo è sempre da giocarci intorno per non rendere una carica facile all'avversario quindi allora è interessante anche perché poi lui può permettere di usare una tragemma gratis e ci sono i miei tragemmi utili in questo detachment decisamente infatti adesso possiamo passare i tragemmi allora abbiamo il primo che è overpowering section durante la fase di comando all'inizio della fight phase un'unità start test del tuo esercito seleziona un'unità nemica in engagement range di quell'unità quell'unità nemica deve fare un test battle shock mentre lo fa se l'unità che è tua che hai scelto è death wing o raven wing togli uno dal risultato puoi usare il suo start è solo una volta per battle round stratagemma molto semplice e di nuovo abbiamo un battle shock almeno uno che non so quanto sia interessante mi pare che ci sia una piccola combo con Asmoday che potresti farti fare un battle shock ulteriore se hai un personaggio in squadra però inizia a essere specialito discorso sì almeno uno è troppo poco per giustificare questi stratagemmi che puoi sperare di aver fortuna una volta se è proprio una cosa importante che deve succedere ma dipende da un tiro di dado che è molto poco probabile che molto no che è poco probabile che accada a tuo favore anche con il meno chiaro mi sembra che l'idea forse sia anche di sinergizzarlo chiaramente anche con l'abilità di detachment di rendere di fare far fare il fallback un desperate escape con un altro meno uno perché battle shock però è simpatico è simpatico perché tu questo lo fai nella fase di comando o l'inizio della fight phase se lo fai in fase di comando lo forzi a fare il test così lui poi non può farlo se lo usi nella fight phase nel turno c'è sì una fase di comando se non è sotto il 100% c'è il cover automatico quindi il timing non è proprio bellissimo in fase di comando lo fai in fase di comando cambia ovviamente togni potenzialmente togni potenzialmente i punti della primaria se sei su un obiettivo e rende attenzione 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 funziona nella tua fase di comando no se non specifica nella fase avversaria se non specifica la fase deve essere e se è tu avversario se non specifica guarda Knights of Fire Knights of Fire non specifica your movement phase or your charge phase esatto sì però dopo adesso dice end of your opponents charge phase oppure your opponents shooting phase infatti questo qua è command phase quindi può essere qualsiasi fase di comando sì anche a me pare sia così pare sia vero specifica nel commentary su queste cose qua se vuoi dire un secondo mentre vuoi comandare durante il tempo guarda Strength in Unity guarda Strength in Unity che è il terzo in basso quello dice fight phase in generale non è solo la tua perché altrimenti sarebbe molto scarso come è stata Gemma perché solo nella tua fight phase rendi più scarso ogni avversario quindi secondo me è perfetto ci sta ci sta perfetto diciamo che è un ombra del warp molto infame sì perché va in combo con l'armico armata sì può avere i suoi utilizzi però di nuovo è troppo poco affidabile se tu hai 5 CP hai Azaren in campo stai farmando CP come se non ci fosse domani e magari c'è mai prima infatti perché l'armor of content la butterai ogni 3 secondi perché tanto ce l'hai e quindi tanto vale usarla ma se tu stai giocando capitani stai giocando Azaren stai scartando missioni tattiche perché non avevi missioni fisse buone da usare e tante CP magari intanto sperarci e dire ti nego quei 5 punti oppure mi prendo io quei 5 punti in più mi sembra tutto ti obbligo a farlo se vuoi spararmi infatti all'1-3 all'1-3 che insomma schifo non fa quindi sì se tu stai giocando da un'unità mobili con le quali arrivi corpo a corpo con un'unità che magari non ti può ammazzare in quel turno di combattimento e il turno dopo dirgli ti tolgo i punti dell'obiettivo forse e ti rendo più difficile scappare da me e toglierti per potermi sparare cioè ha il suo potenziale però appunto mi sembra veramente una cosa che fai se hai i cibi che ti avanzano proprio che ti escono la cicca Samael ha la stessa regola d'armata come regola in profilo quindi attendiamo vedere se la sua regola si attiva e va in combo e fa fare il desperate all'1-4 in cui in cui cazzo sarebbe molto forte ovviamente da parte è scioccato Samael è la seconda è la seconda volta che hanno fatto è la seconda volta che hanno fatto un detachment fatto o esclusivamente per Samael o parzialmente per Samael e gli hanno dato l'abilità del detachment a lui stesso perché anche il detachment della Ravenwing è esattamente la sua prima regola di avanzare e caricare e quindi diciamo questo sketch in testa questi della GW e così se non lo usa il detachment è la regola del detachment va bene armor content lo possiamo superare e passare dal prossimo il prossimo è complicato in realtà perché ha un word in particolare per quello che fa che permette tra l'altro di fare un pochino di stupidaggi di regole anche strength in unity da utilizzare appunto come stavamo dicendo adesso nella fase di combattimento qualsiasi via avversaria e targettando una propria unità di adetus a startess e parzialmente appunto un'unità che la sta per attaccare che la sta scegliendo come bersaglio e da meno uno a essere colpita ma uno a colpire all'avversario che sta bersagliando alle unità se un'unità se sono in engagement con l'unità di Ravenwing da quell'unità e se sono anche con l'unità di Deathwing oppure anche solo con l'unità di Deathwing meno uno a essere ferito invece e specifica se la forza è più alta è la resistenza specifica successivamente che l'unità che io ho bersagliato con questa gemma non può essere beneficiata anche da armor of content però ci si può passare intorno se l'avversario divide gli attacchi che sta facendo tra unità Ravenwing unità Deathwing oppure tra unità perché si bersaglia con questo statagema solo una delle proprie unità e con armor of content si può bersagliare l'altra è una cosa molto stupida perché soprattutto spingere a bersaglia a non dividere gli attacchi in questo caso sì e perché uno deve stare un po' attento semplicemente perché dare meno uno essere colpito ferito e meno uno di AP arm of attack se si sta attaccando tipo dei Deathwing Knights o qualcosa del genere con qualcosa che non sia meno 4 e mandare comunque l'invulnerabile li rende abbastanza posti e meno un danno tra l'altro a Deathwing Knights per la loro regola di base non sono non lo ridevi facilmente quei Deathwing Knights quindi è una cosa fastidiosa che non so se ho intenzione di fixare perché veramente l'intento è quello di non farteli staccare non farteli rendere troppo fastidiosi così però non so se ho l'intenzione di sistemare perché è un caso forse un pochino non direi di nicchia però potenzialmente non super comune è un po' convoluted come si dice si mi aspetta non venga toccato alla fine è un po' un caso limite di fixetti capiti in realtà caso limite che se capita capita probabilmente non capiterà ai top players perché perché non siano costretti però può fregare una persona nel momento sbagliato fregare no perché è una non potente in più però bene successivo sicuramente è molto forte non l'abbiamo detto ma sicuramente è molto forte hai fatto la cosa che devi fare cioè caricare con Ravenwing e Deathwing già anche se solo sei caricato con Deathwing la regola di base del meno un essere ferito se l'avversario ha più forza la tua resistenza è sempre forte e se hai anche Ravenwing meno uno e meno uno e per un CP lo spendi tutti i giorni questo e si soprattutto se ti concentri su Ravenwing con gli speeder perché alla fine comunque hanno parecchia resistenza e di colpo avere un veicolo con meno uno essere colpito meno uno essere ferito si sente da porcarità solo corpo a corpo perché contro eserciti da tiri non ti aiuta niente però vabbè però per il solo corpo a corpo ci aiuta anche questo prossimo statagem che può essere utile per arrivare con dei mount Knights of Iron Cavaliere di Ferro in movimento ho la tua fase di carica un'unità Ravenwing fino alla fine della fase ogni volta che il tuo modello fa un movimento normale avanzata o carica può muovere orizzontalmente attraverso i terreni molto 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 diretto però non sul fallback non può fare fallback oltre un muro però interessante interessante per poter appunto usare l'unità di Sama che muove di 18 e carica molto più agilmente permettendo di andare dritti per dritti e arrivare dove si vuole vedrai il buff che ci serve e penso che sia principalmente con le moto questo sia pensato per quello perché le moto effettivamente non evitano non passano attraverso le rovine esatto dopo ne beneficiano anche gli speeder ma è un po' meno interessante che gli speeder ma ci sono quelle occasioni in cui sai avere uno speeder che dice ok adesso mi muovo cosa si muove lo speeder 12 o 14 14 14 più avanzata in una direzione che per non so per fare un engage per fare un behind enemy lines o anche solo per andare a rubare un obiettivo vuol dire tanta roba cioè per dire o anche per mettersi in l'indice lo migliore magari per sparare se è una se è una speeder e dopo dare una carica in più o magari hai finito gli ATV per buttare in bocca al nemico e i Deathly Knights ancora perché i Deathly Knights durano il ventuplo dei tuoi speeder le scuole dei tuoi ATV e dici ho bisogno di un altro vincolo che faccia il suo lavoro vai vai passa attraverso il muro e entra in mini con quelle unità ricordate mi sono andato le unità a me si riserva dopo in sé la partita possono arrivare anche a sconturno giusto se hanno Deep Strike sì 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 oppure hanno un warning che dicono che devono tornare nella prossima fase in movimento perché altrimenti se è solo riserva no e Fulgus ti permette metti caso tu vai per primo l'avversario non ha solo il primo se è il secondo turno se tu inizia la partita l'avversario per primo alla fine del tuo avversario tutti i suoi Terminator nel tuo primo turno puoi farli scendere? allora mi sembra di sì per lo stesso warning che avevo con i Terminator dei Gustodes che mi permetteva di farlo ricordavo questo infatti in quel caso lì tu metti il blocco da dieci Terminator in campo vai per secondo alla fine del tuo anniversario tu li tiri su con Knights of Iron mandi avanti gli Outriders e Samael e carichi il primo turno idealmente riesci a caricare il primo turno anche il mob on Terminator perché è una carica di 7 binati in quel caso inizia ad essere una un bel un bel giochetto sì bene lo sto cercando un attimo sul intanto che tu cerchi io dico il prossimo tra gemma illuminating fire nella fase di fuoco dopo che l'unità Ravening ha scelto il suo bersaglio bersaglia quella unità Ravening c'è l'unità nemica entro 12 data unità e finché e e e e e grazie non ci lo dirò e fin a fine della fase le unità alleate Deathwing ricevono un più uno a farire con unità questo è interessante perché il termito Deathwing mantengono il vecchio warning dei terminator che avevamo dove con lot of moment hanno anche il più uno a colpire quindi questi terminatori colpiscono al 2 ripetibile se parliamo del versare dell'8 oltre a questo hanno anche il più uno a farire inizia a essere comunque un terminator che spara bene magari arrivata dall'ipstray che è in corta con i bolter hai un numero di colpi notevole chiaro chiaro che può può fare il suo lavoro e inoltre inoltre beh ricordiamoci quello che avevi detto all'inizio di questo detachment con questo detachment diamo magari spazio un pochino anche ai veicoli repulsor per esempio stavo arrivando a keyword deathwing scusa vai si si stavo arrivando a questo qua infatti cos'è che ha la keyword deathwing e spara un laser on bello grosso il repulsor executioner che ferirà il 2 tutto quel punto mi pare sia forza 18 una cosa del genere quindi potrei offrire il 2 knight o anche un brutalis con i due termici o un redemptor con il plasmone hai un sacco di unità che possono godere di questo di questo stragema balistus potenzialmente anche loro possono in teoria il balistus anche si perché lui ha deathwing ha un sacco di bonus anche lui perché di base ripeta alcuni tiri e soprattutto ha due laser e due colbianciamissile mi pare non è male non è male è un bel saggema un bel combo e dà appunto un pochino più di spazio anche dal punto di vista di rendere utili unità che magari non sarebbero altrettanto utili in altri detachment dà spazio a pensare a unità che potrebbero beneficiare questa cosa perché io voglio farmi i tre dentro per la lista inner circle ma finché non mi stemano il wording delle keyword non funziona lì e qui invece si qui è il suo spazio e sicuramente è interessante perché più uno a ferire su qualsiasi di queste unità che abbiamo nominato fa la sua figura anche appunto il repulsor probabilmente è il maggior colpevole di questa cosa perché si spara 700 colpi sopra con ognuno di quei colpi a più uno ferire il laser ma anche tutti i colpi stupidi del defensive array comunque ti feriscono a più uno non sono stupidi o no anzi è un un bel tutta la giamata un cp ovviamente richiede avere un carave che ti faccia da spotter a quel caso ma ce ne sono ad esempio uno storm speeder ti dà anche il più uno ap dovrebbe essere lo storm speeder hell strike storm hell strike più uno ap esattamente ok infatti ricordavo bene che costa neanche tanto 115 punti vuol dire avere il repulso di sparo a quel disastri colpi al più uno ferire col più uno ap inizia ad essere un signor investimento che potrebbe fruttare bene altrimenti vuoi spendere poco spendi 60 punti non inviare tv e gli spari due colpi di twimble trifle sopra e i due colpi di twimble trifle ti danno più uno ferire è facile così esatto anche perché ricordiamoci non specifico di spare solo un bersaglio poi ci dispare più bersagli i colpi scemi che ti servono solo per spottare ha il bersaglio da spottare e i colpi grossi un altro bersaglio con per ferire un carro perché qualsiasi altra cosa più uno ferire non sai neanche colpirlo ferirlo detto questo possiamo passare all'ultima statagemma che vediamo subito dal costo in cp che deve essere interessante altrimenti meno utilizzo e sicuramente interessante perché alla fine della fase di carica del tuo avversario permette a targetando un'unità di fanteria deathwing o worker deathwing di nuovo come parlavamo di drive note eccetera eccetera che sia entro 6 pollici da un'unità nemica di caricarle come se fosse la fase di carica del tuo turno questo effetto può le fa caricare esatto e non fa ricevere i bonus di carica e un intervento eroico sì ma è un intervento eroico che può caricare un'unità che non abbia caricato e quindi questo rende molto più spaventoso schermare dei deathwing nights o un o un dreadnought che rende molto più pericoloso in qualsiasi modo posizionare le propria unità nelle loro vicinanze entro 6 pollici e si rischia si rischia tutto è una cosa che rende estremamente difficile e fastidioso posizionarsi in qualsiasi maniera contro un esercito del genere che è pericoloso comunque con tante delle cose con cui può caricare quindi faccio notare che c'è una specifica importante che manca che è l'intervento eroico l'intervento eroico ti obbliga a non poter fare multicariche con questo tu puoi fare anche multicariche tra l'altro già che può caricare una o più di quelle unità quelle unità quindi devono essere tutte unità entro 6 pollici dalla tua unità di fanteria o walker però 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 nulla vita che tu arrivi a quell'unità lì che entro 6 pollici e colpai l'in tu riesco ad arrivare ad altre quindi si apre moltissime possibilità è un bellissimo attachment 2 cd che se li spendi molto probabilmente li stai spendendo per una cosa di un certo effetto insomma anche montare su metterti vicino metterti vicino che non riesci ad atterrare magari su un su un obiettivo e l'avversario ci vuole anche salire è difficile salirci se facendolo fai esatto quindi molto molto potenziale questo si si appunto di nuovo dicevamo due cd che puoi spendere probabilmente perché hai azra che giocherai sempre oppure oppure un cd se usi un capitano il capitano in questo attachment verrà sicuramente giocato veramente non ho mai scegliato un capitano per minuto in lista perché non trovavo un detachment in cui fosse più utile di un altro personaggio ma qui ci sono un sacco di belle combo io per risponderti alla domanda è un boh in teoria sì perfetto ci informeremo perché sarebbe interessante ho cinque riferimenti a tre documenti diversi ma non c'è una vera e propria risposta chiara bene direi passiamo al terzo detachment ci siamo siamo al detachment che ce l'ho a dire wow ma quindi ci stanno pensando a fare i detachment a fare i detachment